La polizia di frontiera ha arrestato un terrorista di una cellula islamica al porto di Palermo. Si tratta del latitante internazionale Amdi Chamari, 24 anni, ricercato dal febbraio di quest'anno. Un cittadino italiano, residente a Campobello di Mazzara, ma originario della Tunisia. La cellula, che progettava attentati terroristici, si ispirava ai principi della dottrina fondamentalista jihadista ed era guidata dall'imam della moschea di Andria, il tunisino Osni Acemi Ben Hassan. L'imam si teneva in contatto con gli altri componenti su internet, navigando e chattando dal call center da lui stesso gestito. Era una discordia nel Catanese, due dei sei terroristi arrestati ad aprile, Ben Ayia Muldi, Ben Rashid e Mohammed Ben Ali, entrambi tunisini, rispettivamente di 34 e 48 anni. Secondo l'ipotesi avanzata dagli investigatori del Ross di Bari, per stabilire contatti, il gruppo avrebbe anche organizzato campi di addestramento sull'Etna. La finalità era preparare gli adepti ad azioni di terrorismo internazionale in zone di crisi.